Un grave nubifragio ha colpito la nostra provincia, molti territori dell'Astigiano. Per questo la giunta regionale, con il capo Cirio e l'assessore Gabusi, si è venuto in provincia di Asti proprio per verificare la situazione e per vedere tutto quello che si può fare per riparare questi danni. Per questo abbiamo sentito l'assessore Varca. Buongiorno a tutti. Oggi ad Asti è venuto a trovarci il presidente della regione Alberto Cirio insieme al nostro assessore astigiano Marco Gabusi. Per fare il punto della situazione e dei danni che l'Astigiano ha subito, non solo Asti come provincia ma anche come comune, ma anche i paesi della provincia. Noi dell'amministrazione provinciale guidati dal nostro presidente Paolo Lanfranco seguiremo da vicino la vicenda in maniera da poter ottenere tutti i contributi possibili per salvaguardare il nostro territorio.